amici di radio svat bentornati oggi avete sentito un intro musicale rock bello cattivo perché è l'inizio di una nuova rubrica qui con me marcivalo ciao a tutti ragazzi bene è una rubrica che è nata da l'ultima puntata che abbiamo fatto perché c'è bisogno di parlare un po di bike porn di bici di estetica ciclistica carlo ci siamo gasati da paura ci siamo gasati da paura e tanto è stato il gasamento che abbiamo deciso di fare video e audio sì proprio per parlare di quello che praticamente trasportiamo quello che facciamo nella vita reale in una puntata podcast e video perché nella vita reale parliamo sempre di queste cose esatto l'altra volta abbiamo registrato siamo andati anche lunghi nella registrazione perché ci siamo gasati tantissimo oggi aspettatevi due ore di puntata finito di registrare abbiamo parlato per altre due ore di tutto quello che è il mondo bici quindi c'è nata questa idea della rubrica bike porn e non saremo tecnici non saremo giorni stile giornalistico parleremo principalmente di ciò che ci piace ciò che non ci piace anche in maniera diretta senza problemi e sì quello che ci gasa quello che ci gasa ragazzi cioè a ruota libera parleremo di non parleremo di prezzi di quanto costa cioè se ci sarà l'occasione in determinati componenti qualche bici che merita di attenzione da quel punto di vista di prezzi però diciamo che è il podcast dei sogni sì il podcast dei sogni è il podcast dei sogni dove immaginiamo di realizzare i nostri sogni poi siamo già natale ragazzi esatto fatevi un regalo fatevi un regalo si parte con l'argomento più facile di tutti i telai telai l'argomento cardine uno compra la bici in base a com'è la forma del telai sì perché carlo diciamo che quando uno cerca una bicicletta purtroppo nel mondo bici non riesci non puoi provarle cioè le macchine tu vai al concessionario ti danno le chiavi ti fai un giro e vedi com'è una macchina la bicicletta no cioè o adesso siamo di ritorno dalla dall'italian bike festival di misano dove lì hanno fatto provare le biciclette però ti fai un giro di pista puoi solo capire bene o male poi non messa impostata con le tue misure quindi è difficile magari riuscire a capire la bicicletta se si adatta alle tue caratteristiche quello che sicuramente fa la scelta di una bicicletta nel momento dell'acquisto è proprio la l'emozione che ti dà questa bicicletta quindi sì l'emozione un fatto più estetico e siccome è quella scintilla che dici è la mia ed è molto difficile con le bici perché sì tu mi insegni quanti da quanti anni è che vuoi cambiare la bici non c'è ancora riuscito lasciamo perdere che adesso partiremo parlando anche di marche quindi io sono specialized da sempre praticamente sono partito con l'SL3 aspetta aspetta facciamo un cartellone non stiamo consigliando acquisti no no non siamo no ragazzi siamo qui perché se no le vostre mogli le vostre fidanzate vengono a cercarci e no no noi parliamo a ruota libera di quello che ci piace di quello che abbiamo di quello che proviamo per per telaia in questo caso ok per telaia e biciclette specialized ho fatti cioè nel tempo ho pensato a cambiare bicicletta ma sono sempre stato restio perché mi trovavo bene mi trovo bene con la con la spessi con la tarmac però l'ultima che ho preso è stata la SL6 splendida bicicletta quando è uscita la SL7 in che anno più o meno 2019 sì anche dopo uno dei primi te l'hai a disco quindi esatto esatto poi quando è uscita la SL7 l'ho vista ho detto beh è la stessa tra virgolette l'unica cosa è che vabbè ovviamente era tubi integrati fil integrati cioè più aerodinamica sicuramente però ho detto facciamo una cosa aspettiamo visto che poi era arrivata la marsivelo vabbè quella è fuori da ogni da ogni classifica aspettiamo di vedere il prossimo modello perché questo sinceramente non non mi dava queste grosse differenze arriva il nuovo modello mese scorso quando è uscita mese scorso grande delusione tra virgolette devo ammetterlo uguale identica alle SL7 cioè che mi vengano a raccontare che fa 30 secondi in meno su un percorso di 40 chilometri che ha più aerodinamicità più rigidità meno peso ci sta tutte cose che probabilmente posso dirti una cosa però io mi sono informato cioè come tutti ci siamo informati molto sugli aspetti tecnici però spesi fa del marketing diciamo la forza della sua cliente alla fine e negli anni hanno sempre detto è più veloce di tot secondi è più veloce di tot secondi hanno fatto un calcolo negli ultimi quattro anni sono più veloci tipo di un minuto le bici che vabbè è da prendere molto con le pinze ed è uno dei fatti che io non mi sento vicino a quel mondo lì spessi diciamo ovviamente non è quello che fa propendere per l'acquisto nel senso sono tutte parole che ovviamente uno deve ponderare diciamo che c'è anche il fattore pro perché tu la vedi su remco la vedi su tutti questi personaggi ovvio che squadre world tour è anche giusto che ti spinga a comprare un telaio in base a chi lo usa però quando è uscita io mi aspettavo di vedere qualcosa in verità la novità è poco quindi quello che è un po l'emozione non è scattata quella scintilla ok però vabbè comunque grande bici ti dirò colori colori sempre abbassabelli non male no no bellissimi però no ma la bici è porno cioè non stiamo dicendo che però nel 2023 ci aspettavamo un cambio di marcia ti dirò di più di spessi il loro grande errore secondo me è stato non fare più il venge io l'ho usato un anno mi sono un po pentito di averlo venduto è una bici che ti spacca in due la schiena perché comunque è molto impegnativa però in pianura era una roba devastante e dopo magari parleremo anche di questa cosa ci saranno ancora bici aero e bici da salita o è tutto un insieme io la vedo più come tutto un insieme anche perché ti dico questa cosa siccome è una follia nel 2023 diciamo pazzia così anche il magro è contento pensare al peso prima dell'aerodinamica dopo tu sei un grammo maniaco lo so io per me si può sempre limare lo sai come io toglierei peso sempre però però effettivamente ultimamente il fattore aero è importante molto importante sì anche perché visivamente siccome i tubi fatti in una certa maniera ti cambiano proprio la bici per dirti quando ti vedo sulla etos cioè dico marci sei un panno dopo è bello anche quel telaio però scusami ma siccome è un po' un panno sì poi vabbè è una bici quella lì non nata per l'aerodinamico ovviamente è nata per le comodità si parla di etos ovviamente però sì è vero la melanzana stiamo parlando della tua melanzana che è in vendita scusami magari t'ho rovinato la vendita no no vabbè ma ne ha di estimatori sicuramente no ma sicuramente poi dopo intervengono anche chi come Timo la pensano in maniera diversa Timo pensa solo al peso solo più che al peso all'utilizzo in salita perché la sua caratteristica doveva forte e ogni volta che si parla di aerodinamica dice eh sì però l'aerodinamica per farti nove chilometri in salita cosa serve secondo me è vero che in salita quando spingi probabilmente l'aerodinamica non è fondamentale ma quando in una gara hai 20 chilometri di piatto certo vallonati discesa cioè comunque una gara non è fatta solo di salita se fai l'ecrono scalato ovviamente puoi anche andarci con la etos con i fili fuori che poi sì parlando di aerodinamica siccome sui telai bisogna stare un po' attenti si dice telaio aero non aero poi vai a vedere che comunque l'incidenza dell'aerodinamica che ha un telaio sul totale della panoramica generale di un ciclista è il 10-15% perché conta di più la posizione quindi in quel caso sarebbe più valutare un telaio che ti permetta di avere una posizione aero telaio con piega manubrio manubrio cioè con stem piega manubrio quindi sì il fattore cioè dire un telaio aero è forse più un aspetto visivo secondo me sì 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 beh comunque beh spessi comunque diciamo che non è che vai sul sicuro però deve piacerti come concetto io l'SL7 e l'SL8 non me lo prenderei mai prima di tutto perché ne vedi tanti in giro e è un po' anonimo secondo me dopo un po' non credi? non parlerei di una bici anonima perché è sicuramente top top di gamma secondo me certo cioè scusa la cioè una delle top 3 sì la tarmac se la provi è difficile puoi riuscire a salire su un'altra perché ti trovi veramente bene è una bici completa soprattutto le ultime come dici tu da quando hanno smesso di fare la Venge è veramente una bici per circuito è una bici per salita però però sono da anni che è sempre quella bici lì ecco quello cosa che invece però ad esempio il cambiare il cambiare stile diciamo disegno può a volte portare a cambiamenti che non sono così buoni dal punto di vista estetico tipo tutta l'ultima serie bianchi allora io sono stato al bike festival cioè a Misano e sono andato proprio lo stand bianchi perché volevo vedere avevo presentato la specialissima nuova ecco la specialissima a me piace l'ultima fatta ha questo telaio strano chiamiamolo così perché ha questo tubo orizzontale dove sembra che tutti ci sia seduto e si sia piegato il carbonio non è cosa del genere ecco per farvi capire è molto strano è molto strano però però rispetto alla oltre è grave cioè Marci ho aperto la foto della oltre e mi si è crashato il computer no siccome qua hanno fatto non lo so c'è qualcosa che c'è qualcosa che non va cioè c'è qualcosa che non va qui non lo so il dal punto di vista perché c'è non la conosciamo a tanti è piaciuta io ne ho visti tanti strada allora a tanti è piaciuta perché comunque amano il Marco Bianchi il Marco Bianchi è da amare solo da amare sì è anche lì storico hai sempre l'azzurrino dentro è una roba già che mi urta me però preferisco allora ti dico per me l'ultima bianchi veramente figa porno è stata quella di di Roglic quando andano a correre la oltre con cui han corso la vuelta e han vinto la vuelta quello azzurrino lì con gli adesivi jumbo jumbo quelli gialli quella secondo me era veramente o la crono era molto bella o la crono vabbè la crono spaziale un bel aereo però anche lì c'era quel azzurrino se non sbaglio il nero facevano i tempi ancora qua il nero sfumato azzurro cioè il voler a tutti i costi ricercare o comunque dare in mano agli ingegneri cioè mi sembra che l'abbiano dato in mano agli ingegneri di Microsoft non so come dirti e non quelli di Apple non lo so cioè la roba che tra tutte le cose di questo telaio la roba che urta di più è forse l'attacco manubrio sì allora veniamo a quella parte lì che è quello di cui volevo parlare il manubrio e l'attacco manubrio un po' assomiglia a quello cervello ok però servello se la vedi cioè la S5 è una bici a mio parere porno cioè veramente bella il problema qual è? la dai in mano a un professionista è vero è una strafigata perché non mette uno spacer che sia uno hanno tra l'altro ragazzi un attacco manubrio diverso se non sbaglio bravo allora c'è Umberto un nostro amico un amico dello SWAT che ha tutte le bici più porno che lui praticamente lui praticamente è un pornoattore ha tutte le migliori bici che escono e si è preso l'ultima SL8 e ti dico mi ha mandato le fotografie è proprio da sbavare però ha anche questa cervello e mi hanno detto che è riuscito a farsi dare dalla squadra ufficiale un manubrio che non ha quella parte che si diciamo che si alza un po' esatto ma è più basso proprio quei manubri lì senza spacer fanno quella bici lì veramente una lama cioè se gli metti già gli spacer ecco se tu la dai all'amatore comune o comunque quello che ha un po' mal di schiena o che non non ha quelle misure estreme e inizia a metterci una serie di spacer lì proprio veramente ragazzi sì è una bici già di per sé aero così che devi essere un corridore diciamo tra virgolette e a volte io ho visto quindi di base non dovresti mettere gli spacer esatto e io ho visto a volte quel tipo di bicicletta lì con pipa e manubrio normali e non quel manubrio lì tanti pro però ragazzi cioè dopo lì perde tutto il concetto della bici però vabbè tutto vabbè io ti dico no non la comprerei mai questa cioè sinceramente io la bianchi forse più per i colori però ma c'è anche il color sai cosa c'è un'altra cosa con gli alettoni anche davanti gli alettoni ce l'ha la oltre la oltre con gli alettoni lì che tra l'altro mi sa che non gliel'abbiano nemmeno approvati sono andati sono andati siccome un po' oltre l'aerodinamica oltre con la oltre senti no una cosa che volevo anche notare è il colore perché il colore opaco soprattutto nero nelle biciclette a mio parere fa scomparire le forme cioè proprio le snellisce le annienta le annienta cioè non non vedi le forme ad esempio la tarmac nera non è bella come la tarmac con qualsiasi colore anche la questione colore è una siccome è una cosa che ti blocca tanto nella scelta dei telai perché magari vai dal negoziante scusate e non ha quel colore che vuoi tu e allora sei obbligato a prenderne uno per dirti io ho preso una factor ostro e ho dovuto prendere per forza quella colorazione è un fattore limitante anche la colorazione tante volte quella la portatela da luma color e fatela fare esatto la roba migliore è fare il custom come ha fatto il Gino si è presa la factor nemmeno montata luma color e via full white a proposito no che tu mi parlai di questo nero opaco che dieci anni fa tutti volevano la bici nero opaco no ti spiego anche perché forse c'è un punto di vista tecnico perché pesa meno può essere cioè è il tipo di colore che permette di guadagnare 30 40 grammi però ad esempio io ho la SL6 però preferisco metterne mezzo chilo di vernice ma farla bella cromata oro no c'è la SL6 ad esempio che ho la rim che tengo gelosamente che era l'ultralight si chiamava e aveva questa colorazione grigio opaco che le permetteva di essere molto più leggera quindi anche questo discorso delle rim comunque ma sai che sono andato a vedere in che senso discorso rim sono andato a vedere se vanno di meglio i rim o i dischi ancora sono andato a vedere il listino pinarello e pinarello fa ancora la rim ma diversi brand se non sbaglio hanno ancora in catalogo non mi ricordo chi qualcuno adesso non mi viene in mente che ultimamente e comunque a prezzi ancora alti esatto ultimamente mi ha detto un ragazzo mi ha detto sai che voglio prendermi il pinarello pensavo di prendermi la rim gli ho detto ma come la rim e sì perché comunque costa un po' meno però è sempre bello io ho sempre usato rim glielo ho sconsigliato diciamo cioè io secondo me i dischi torniamo indietro di 10 anni ma più che altro è proprio anche questione sicure cioè il disco è eccezionale proprio per tutta una serie di cose poi non so se quelle che producono adesso sono tutte integrate coi cavi perfettamente o c'hanno ancora dei cavi fuori con la rim non può avere cavi dentro cavi fuori 2023 è follia sì 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 è vero è vero parlando di italiane parliamo di pina pinarello cosa mi dici tu pinarello premettiamo che ce n'è uno del gruppo il lupo che ha la pina bianca pazzesco bellissima però secondo me è una di quelle bici che un po' come servelo quale forme lì dopo un mesetto di stufano allora la pinarello a mio parere personale perché poi magari certo no no certo allora la pinarello ha moltissimi estimatori poi vabbè essendo appunto nel world tour fa tantissimo non allora la cosa che veramente mi aveva cioè non mi piaceva era la Honda la prima che è uscita mi sembrava veramente la bici di Gigrobo d'acciaio cioè sembrava i manga giapponesi cioè assurda veramente ne vedo ancora certi vabbè certi signori di una certa età con ancora queste biciclette che soprattutto quella bianca e blu bianca e zua cioè è una roba guarda veramente per me è inguardabile però vabbè comunque ha fatto una generazione questa generazione nel tempo si è evoluta e si è un attimino aggraziata e ora tutto sommato non la reputo una bici non cioè non bella assolutamente anzi è una bellissima bici però c'è un però sempre c'è un però che a mio parere non mi gasa sai cos'è il problema guarda sto guardando adesso di fronte a me la foto di Pippo Ganna e la pina dipende da che taglia in che taglia la vedi perché quando le vedi super piccole sono talmente grossi i tubi comunque ha una proporzione un po' strana quando sono tanto grandi anche lì le taglie medie secondo me sono quelle un po' più belle da vedere quando vai tanto basso e tanto alto di taglia vedi vedi veramente i telai cioè è un po' il problema di tutti i telai che nelle taglie super grandi sono più brutti da vedere così come in quelle più piccole ovviamente 51, 54, 56 sono le tre taglie dove non hai grandi problemi di estetica sono andato dal bike fit per cercare di farmi mettere su una 54 ho detto dimmi dimmi che posso salire su una 54, 56 mi ha detto guarda se vuoi ti ci metto però ti metto 20 cm di space no Marci non esiste va bene dai comunque Pina deve piacere però grande bici l'unica cosa non so quanto per la salita per i mani a livello di peso però se hanno vinto comunque dei grandi giri non penso ci siano problemi conta sempre solo la gamba vabbè a proposito di grandi giri vinti da un brand negli ultimi anni vabbè Contaday che tra l'altro off topic ha fatto ha dato un minuto al com di Ricci Porte sulla madone pazzesco stratosfera ho sentito nel podcast di gaffo che è distrutto non c'entra niente con la puntata ma era da dire perché quello fa tanto porno perché vedere una bici salire così non ce ne sono su quella bici credo no perché se fai quei tempi comunque sei limato giusto comunque ecco v4r tanta roba come direbbe v4rs è una di quelle bici che io vorrei provare è uno di cioè è completa potrebbe essere completa si è completa bella bici proprio dal punto di vista estetico poi comunque io col nago poi apriamo il capitolo bici italiane con cognomi con cognomi su telaio no perché questa va detta sta frase eravamo l'italian bike festival e gli faccio il lupo lupo guarda ho visto le bici un po' di bici anche bottecchia fa un telaio carino solo che c'è scritto boh quel logo lì bottecchia così cioè non mi piacerebbe andare in giro così lupo mi fa ma bisogna andare in giro con dei nomi di brand bisogna andare in giro con i cognomi sulle bici con i cognomi e non ha detto una cosa sbagliata cioè per la vecchia guardia così ci sta siamo in italia abbiamo marchi di bici assurde cioè abbiamo fatto la storia delle biciclette quindi bottecchia col nago pinarello bianchi quindi il discorso che fa il lupo non è non è sbagliato i giovani non so quanto no io non vedo la mia generazione come quella la mia generazione diciamo che è un po' in mezzo a questo pensiero ma ad esempio la generazione Z la generazione dal 95 in su diciamo non mi sembra una generazione che dà importanza al made in Italy o la storia del brand ci sono casi speciali però danno più valore ai fattori di performance e di estetica sì potrebbe essere sì potrebbe essere sì comunque è difficile esatto riuscire a rendere interessante per un giovane un marco che magari ha tanta storia guarda bottecchia bottecchia ad esempio fa delle bici splendide cioè secondo me il telaio della loro bici da strada è bellissimo tra l'altro in colorazione Androni quella che avevano l'Androni era bellissima veramente accattivante e tra l'altro appunto ripeto bottecchia è un nome storico cioè un ciclista che ha vinto per il primo italiano che ha messo la maglia gialla il primo italiano che ha vinto un Tour de France storia incredibile è che si parla del 1920 e quindi siccome è nella scelta del telaio uno non pensa non pensa a quello ecco per dirti Colnago che è il vertelaio più vincente della storia perché aveva la mapeia vinto tutte le corse del pianeta però Colnago è proprio un discorso a parte Colnago Ernesto Colnago ha fatto la storia del ciclismo per tutto quello che sono le eh tu dicevi prima nel pre puntata dicevi che io mi gaso queste cose perché lui praticamente ha rivoluzionato o comunque ha innovato il ciclismo un sacco di volte cioè pensa solo ti dico tre cose a caso l'introduzione del carbonio quindi lui parlando con il Drake gli disse guarda usiamo il carbonio sulla Ferrari prova a far qualcosa con le biciclette lui è andato dai tecnici Ferrari dagli ingegneri Ferrari si è fatto fare i tubi i primi tubi e ha provato questi tubi qua ha vinto tutto il primo che ha messo il disco nell'era del Rim lui è stato il primo a metterlo è bellissimo c'è un video su YouTube dove lui con Squinzi va a una presentazione Squinzi era il patron di Mappei e gli porta questa col nago colorata con i colori Mappei bianca colorata con i colori Mappei i famosi scacchi i cubetti colorati e i dischi vedi Squinzi che si mette le mani nei cappelli per quanto è gasato anche lui cioè due persone di quell'età che come due bambini prendono questo questo giocattolo e se lo guardano cioè questo mi collega a un discorso cioè noi parliamo di bike porn 2023 moderno innovazione ma è sempre esistito sempre cioè se tu vedi quei telaisti lì erano ancora più invasati di noi ma poi lui nella pista cosa ha fatto ha fatto telai assurdi con ruote da 23 davanti 28 di cioè ha fatto delle innovazioni e ha reso porno dei ciclisti dell'epoca cioè è assurdo se pensi Merckx anche il primo il record dell'ora cioè non il primo il record dell'ora di Merckx con la Colnago e poi il primo che ha messo la forcella dritta Colnago cioè forcella dritta ha rivoluzionato ora tutti con la forcella una volta era a banana diciamo che si apriva nel punto di esatto tutte le biciclette avevano anche probabilmente per comodità si dicevano che dava un po' più di stabilità con la forcella dritta dovrebbe essere un po' più rigida però a livello visivo è più cioè per dirti la vecchia generazione preferisce le forcelle un po' curvate più aperte la nuova generazione si vede una forcella così non compra la bici per dirti esatto però ritornando al discorso di prima è vero Colnago ha vinto tutto ha innovato come hai detto tu però se devo decidere ora di comprarmi un telaio do precedenza magari a poco cioè dico cacchio la bici di Pogacar che figata quindi sono siccome per i giovani o comunque la nuova generazione sono fattori che incidono poco nella scelta del telaio e qui mi riallaccio giusto proprio perché hai detto Pogacar c'ha la Colnago mi compro la Colnago mi riallaccio con una delle mie bici preferite la Canyon di Vedepe secondo me ha fatto vendere secondo me alla Canyon gli ha fatto svuotare i magazzini tu non sei d'accordo lo so però a me l'ultima della Canyon è veramente pornografia poi dopo la fine di questo podcast ti chiederò il tuo podio però su Canyon e ti anticipo che questo è il primo post per me allora sono belle sarei uno stolto a dire che non è bella la bici di Vedepe mi piacevano di più quelle prima come l'Aeroad mi piaceva di più il modello precedente perché questo non mi piace tanto l'area c'è l'headset lo sterzo la zona di sterzo non mi piace tanto il reggisella c'ha due o tre punti che non mi finiscono totalmente mi piace un po' di più l'ultimate l'ho vista in una colorazione bianca e nera spezzata che è molto carina però non lo prenderei perché mi sembra un brand sì ok ce la Vedepe io non ti fudo Vedepe non la prenderei per Vedepe mi sembra un po' freddo come brand al di fuori di cioè non ha non lo so non anche ti dico una cosa stupida Canyon vendendo direttamente sì che poi io sono un controsenso perché poi ti spiego cosa ho fatto vendendo direttamente da e-commerce non ha dei punti vendita nel mondo e diciamo che taglia via la presenza nei negozi che da un certo punto di vista se la vedi a livello di prezzi di livello commerciale potrebbe essere anche una scelta vincente però parlando con un po' la gente del settore o comunque gente che cioè è anche bello andare dentro nel negozio guardartela guardare poi trovi negozianti che non dovrebbero fare quel lavoro lì secondo me perché noi da gente che spende tanto nelle bici fa tanti chilometri abbiamo grande fatica per dirti a trovare un meccanico buono un servizio che ti costumizzi la bici ci sono casi rari che ti stanno dietro molto bene però ci sono i due lati della faccia lo so in questo in questo per chiudere il discorso Scanion perdonami sì è un modello che preferisco andare magari dal negoziante chiedergli chiedergli cosa ha in casa e anche perché se nel giorno che avrai un problema la bici così potrebbe aiutarti molto difficile anche questo allora però aspetta ti dico la gravel poi l'ho presa da rose che è un brand che vale vendite così tra l'altro rose fighissimo sono stato a berlino a berlino quest'estate sono andato nel loro negozio veramente hanno una bici da strada fighissima però vabbè non le conosco l'unica roba di canyon che avevano qualche c'è anche loro hanno avuto qualche problemino con i manubri e con il reggisella e tra l'altro uno dei nostri l'aveva quindi anche su quelle robe quando lanciano i nuovi modelli siccome devi sempre aspettare un pochino a capire la quadra no ti dirò guarda l'ho letto l'ha fatto una recensione un pro sì sì da questo punto di vista allora io a me piace tantissimo cioè dal punto di vista stilistico se parliamo appunto di bike porn per me è bellissima mi gasa la colorazione bandito è bella bravo stavo dicendo anche quando vedo il bandito su quella bici lì è veramente cioè riesce veramente a sarà anche il body alpes non lo so c'è tutto un insieme di cose che veramente rende quella squadra veramente super porno quando vai alle corse vedi le squadre col kit settate col furgone il bus guarda tutto uguale tutte le bici sono belle non dirmi così perché sono stato veramente la stessa cosa che ho detto quando siamo stati alla partenza della Milano-Torino passavano proprio attaccati a noi perché c'era proprio la folla che era fuori dalle transene dei Pullman e passavano lì e le guardavamo cioè io mi sono girato con gli amici con cui ero andato e gli ho detto ragazzi ma ce n'è una brutta di bici non ce n'è una brutta nel World Tour cioè le agghindano talmente bene le mettono su talmente bene che sono belle tutte e qui forse solo una non è bella o comunque non riescono a farla porno però vabbè adesso poi ne parleremo comunque la Canyon a mio parere è una bici che veramente mi dà delle no belle belle mi dà delle vibrazioni non so come dirti l'unica cosa mi riallaccio al discorso che hai fatto tu un po' della freddezza del marchio all'Italia Bike Festival vado alla Canyon perché tutti su Instagram mi scrivevano Marsi vai alla Canyon facci vedere cosa è la Canyon arrivo alla Canyon aveva due rulli con due bici sopra una da gravel tra l'altro e una bici elettrica basta non aveva nulla cioè non ha portato nulla aveva uno stand che sembrava uno stand di di non lo so di perché no ti metto un puntino ancora in questo discorso perché non è che è freddo però tu dicendomi questa cosa mi fai venire in mente questo pensiero è un po' un brand tedesco e da brand tedesco puntano un po' su tutte le categorie sulle bici magari entry level così e mi sembra un po' meno corsaiolo per dirti rispetto a un Colnago V4 RS che tu pensi a Colnago pensi a gare ciclismo professionistico sì cioè mi piace di più questa cosa sì ecco come per dirti Maria Factor che tu la vedi solo cioè quella Factor forse mi accorgerò di questa cosa quando Alpecin cambierà marchio di bici e la Canyon non avrà più la squadra Pro Tour secondo me allora a quel punto magari non dico che perderà il suo fascino ma forse mi sembra poco adesso il DS quando sentirà questa cosa mi apre in due poi vabbè io vado sempre un po' contro VDP vado contro tendenza sappiamo le tue preferenze è un grande corridore però mi sembra se lo guardi nel panorama globale mi sembra un po' meno agonistico come brand e parlando di acquisti online comunque marchi che chi mi vuoi tirar fuori ti voglio tirar fuori un'ultima novità oddio un'ultima novità il regno dei panno la mecca dei panno ha però tirato fuori si sta parlando di Decathlon Decathlon barra Varaisel e qui è un argomento scottante scottante ragazzi attenzione io ero propenso al ah interessante ma poi tu mi hai letto una cosa che ho detto no no non prenderò mai una bici Decathlon allora ragazzi la Varaisel ha messo in preorder sul suo sito le biciclette di nuova generazione quelle proprio tirate fuori ultimamente le ha fatte vedere due mesi fa tre mesi fa e adesso ha messo in preorder ha fatto due modelli l'RC Pro e la FCR allora l'RC Pro è una bici diciamo per farvi capire stile SL8 cioè una Tarmac la FCR invece è quella più tipo Venge chiamiamola così però io vado ad aprire il sito e vado a leggere le specifiche a parte i prezzi che sono competitivi sicuramente però anche lì bisogna capire relativamente perché ovviamente io vedo qua un RCR che è appunto la Simil Tarmac per farvi capire 8500 euro con il Red Etap tanto è poco potrebbe essere poco sono comunque 8000 e passare sono comunque 8500 euro con i soldi lì mi prendo 100 bici più belle ecco questo potrebbe essere il discorso io devo vederle devo toccarle avevo chiesto non ai vertici ma a chi conosco in Decathlon di farmi provare la bici non hanno fatto una prova bici hanno fatto solamente una presentazione per la stampa dove le si poteva vedere ferme quindi aspettiamo di vedere se ce la fan provare magari cambiamo non so cambiamo idea e diventano le nostre bici preferite no però per tornare al discorso della FCR vado a leggere un po' quello che scrivono sul sito e nella descrizione della bicicletta mi fa sorridere questa descrizione a parte che dice questa bici ideata per la velocità per i corridori che cercano un'arma perfetta ci sta poi tra l'altro per sollevare le braccia al traguardo vabbè poi dice rigida aerodinamica dice questa bici si esprime oltre i 35 km all'ora cioè come se avesse il motore praticamente quando entra in coppia sotto fa schifo sopra fa paura ed è quindi consigliata per persone esperte cioè dai non puoi scrivere una cosa così cosa vuol dire questa descrizione poi che secondo me questa l'hanno fatta Google Translator ma secondo te un utente di Decathlon che legge sta cosa dice e dice no per me questa qua è un aeroplano non posso non posso qui mi faccio male con questa bici qua ma che bici esperta che persone esperte prenditi sta bici e inizio a girare forse l'unica cosa è che può essere rigida e non consigliata a un pubblico che cerca il turismo o cerca la comodità e una bicicletta ma vabbè comunque ragazzi vedendola in foto vedendola in foto sì ok dopo questa descrizione Marcia cioè dai proprio no non ci sta comunque vedremo un sacco di panno con le braccia al cielo non lo so non lo so sono curioso di vedere sono curioso di vedere perché è comunque sono dei prezzi e sono delle bici che puntano al mercato corsaiolo alla fine se ci pensi è difficile per un per un personaggio che ha comprato non so Canyon, Cervelo Colnago, Pinarello tutti questi tipi di brand passare a un brand come Decathlon allora secondo me succederà così l'unico passaggio che potrebbero fare è quando prenderanno una war tour secondo me potrebbe essere una cosa del genere o ti prendi un muletto decidi di prendere un muletto perché ti serve un due bici allora dici sai cosa faccio mi prendo una Van Riesel vedo come va e magari scopri anche che va bene nel senso non sto dicendo che non va bene non l'abbiamo provata quindi non possiamo dirlo o se no perché io vedo difficile uno che ha Cervelo Spessi Pinarello che dice no la vendo mi prendo la Van Riesel invece quelli che entreranno che diciamo iniziano a quelli che magari hanno iniziato adesso a pedalare tra dieci anni potrebbe essere per loro o comunque uno che ha una bicicletta che tutto sommato è una bici che ha preso per iniziare a pedalare e decide di fare il salto quindi cercare qualcosa di più performante può decidere di prendere quel tipo di bici lì però non sa come vanno le altre cioè non sa come vanno tra virgolette i top di gamma quindi dice mi prendo questa bici costa poco uguale alle altre perché tanto la frase è tanto le fanno tutte a Taiwan sì che è una frase è una frase che sì questa frase a me non piace mai sentirla anche a me è vero che poi dopo tanti costruttori producono per più brand ma secondo me non sono mai uguali tutte le bici poi dopo è difficile sapere se una bici va meglio dall'altra è un fattore personale è anche vero che quando provi una bici hai magari il manubrio con una misura diversa l'attacco manubrio con una misura diversa le ruote diverse gli pneumatici diversi che sono le cose che sono a contatto col terreno e fanno più differenza di tutto quindi provare non provare è sempre delicato infatti noi la prima cosa che decidiamo è estetica esatto cioè non ce ne frega niente però sì ci piacerebbe ovviamente provare tutte le bici del mondo anzi mandatecele no però è quello che servono le squadre a pro è per dire guarda con questa bici se loro fanno questo per dirti è una cosa stupida però vedendo tipo il V4 RS dicevo sì Pogacar paura comunque tutti gli AIDS li vedi in salita anche l'australiano che ha vinto la Zwift li vedi comunque a loro agio col telaio in discesa a guidarla bene però dicevo cacchio però a parte che non hanno super sprinter quindi hanno Ackerman però dicevo chissà come va in pianura in volata quando gli dai hai proprio una bella secca poi vedendo Molano che adesso dico un'assurdità è un corridore che ha le mie caratteristiche però detto cazzarola se cioè secondo me ci sta in tutti i campi e in tutti ah posso dirti una cosa su col lago quando vedi la Dubai Police con le bici col lago Dubai Police te infila una figata atomica loro mi sembra che abbiano una colorazione speciale bianca e verde bellissimo quando li vedi Dubai Police mi manca la sirena sul manubrio che anche lì se tu prendi il body separato Dubai Police fa ridere così come la bici in quella colorazione non ha senso li metti insieme è una cosa pazzesca sì sì tornando un attimino al alle bici italiane non voglio dimenticarmi perché anche qui è una delle mie preferite la Willier Willier ha fatto uno stand anche lì a Misano dove c'erano la Zero la la Filante sì bici la Filante mi piace un po' meno sinceramente la Zero fa paura cioè è una bici meravigliosa bella e negli anni passati ci ho anche pensato l'ho anche consigliata magari al Lupo due o tre anni fa però posso dirti che quello scavetto sotto Regisella mi urta a tal punto di decidere di non prenderla allora ti dico che ti capisco perché è lo stesso il dentino della Pinarella della Pinarella che ha all'attacco del tubo sella quello dentino dove c'è ma ci sono quei piccoli dettagli che ti portano dire no sì è quello che ti dà fastidio la pagliuzza che ti dà fastidio dopo fa delle colorazioni bellissime ecco bravo allora Willier fa delle colorazioni assurde bellissime la colorazione quella che deriva un po' dalla stana dalla squadra corsa è splendida ma lì ho visto una versione Cavendish bianca e nera spettacolare e e poi c'era la molto bella la bici di Velasco del campione d'Italia e questa è la filante sì esatto splendida cioè veramente ma poi proprio la forma la forma del telaio per me questa è la b cioè è veramente fatta bene secondo me a te dà fastidio quel particolare ci sta ma nell'insieme e poi scusa non parliamo di ruote perché ne parleremo in un'altra puntata però quando qui metti sotto l'ecorima a 5 razze a 6 razze cioè va sì ti dirò che non mi piace neanche tanto il logo col fondo cioè l'incorsivo non mi piace tanto sono un po' più sulla modernità lo so però questa bici a mio parere a mio parere come dice Cipollini a mio modesto parere dopo hanno fatto una delle colorazioni più belle cioè io mi ricordo la Ramato del 2000 c'era 16 o 17 che la riprendono ogni volta con quel colore che usava Pippo Pozzato Ramato Isbeck assurda molto bella assurda colorazione meravigliosa però vedi anche nel telaio tutto bello c'è quella piccola cosa che ti blocca nell'andare avanti nell'acquisto quindi questo vuoi dirmi che non c'è una bici che è totale è molto difficile è molto difficile è difficile per dirti se parliamo di punti delle bici che a livello visivo ti danno un po' fastidio tipo la track nuova cosa mi dici? allora parli della Madone della Madone sì perché secondo me sì se devi guardare una track devi guardare la Madone allora la Madone è una bici che ha un telaio che o piace o non piace ma anche quelle precedenti a questa di cui parleremo ora perché è un telaio imponente grosso spesso direi che quasi dentro lì ci sta una batteria praticamente nel tubo obliquo è molto diciamo importante come come forme e deve essere sicuramente una bici velocissima a mio parere deve essere proprio la a te che piaceva la Venge secondo me su una Madone come idea di bicicletta può avere quelle caratteristiche secondo me è una bici da Pedersen quando ti vedi Pedersen su sta bici dici è da completa è da Vitelli già se vedo Asbjorn su questa bici è più difficile più difficile però tipo lui mi ha detto è una saetta è molto impegnativa esatto di cui volevi parlare quell'attacco tubo sella ha questa specie di incrocio triangolo mancante chiamiamolo così cavo che la rende particolare non so assolutamente che tipo di vantaggi tecnici possa avere perché forse magari rende la sella ma non penso che si viano a cercare la comodità perché una bici così di comodità io queste cose le vedo sempre più come un fattore estetico anche secondo me ti direi sarei più propenso su un no io sono per il no cioè non è non è la mia bici no ma neanche per me che comunque prediligo magari una bici da pianura se così si vuole chiamare perché non esistono più le bici da pianura e da salita no ma questa questa secondo me da salita no puoi dimenticare ma anche la Venge la Venge la prendevi la seghi la seghi in due la seghi no era troppo impegnativa come bici e poi comunque lì c'è il padellone la bici che era esposta aveva un 56 paura paura assurdo poi vabbè Sram lì ha delle padelle quelle lì secondo me sono illegali cioè non le vendono nemmeno no però teniamoci tutto buono per la puntata gruppi che lì avremo anche lì ci sono tre gruppi ma lì parleremo un'ora per altre brand e invece passiamo alla Cannondale sì Cannondale qua voglio sapere la tua allora la Cannondale la Super 6 a me piace io sono ovviamente scalatore di caratteristiche la Super 6 mi piace ho avuto però ho sentito delle recensioni non positive su adesso non voglio prendere denunce su affidabilità dei telai perché ho sentito tanta gente ha questo carro posteriore molto sottile ma sulla Super 6 dici ok però vabbè non quest'ultima la Lab 71 che è l'ultima uscita è veramente bella ha questa particolarità di avere il carro basso il carro posteriore basso rispetto alle altre esatto la rende forse in teoria più comoda perché ha questa possibilità forse di di essere forse più elastica non lo so a me piace mi piace poi vabbè con la F fanno i numeri perché fanno colorazioni pazzesche che le rendono comunque anche quelle lì molto accattivanti mi piace ma non è gli manca un po' quella marcia lì però per dirti che non dell'ho sempre visto come un brand per gli affezionati ti parlo di dieci anni fa c'era il nostro Tiziano Zonta che era innamorato di questa bici da salita che si chiamava la penso sulla Super 6 anche quella si chiamava la Super 6 perdonatemi ma non mi ricordo quella proprio semplice i tubi classici che aveva l'attacco molto alto sotto la diciamo la classica la bicicletta e avevano il modello in alluminio che era uguale identico come forme e c'era gente la CAD esatto la CAD e quindi li vedevo come quel gruppo di persone che sono innamorate di quel tipo di telaio quello che usava ai tempi Sagan quando è entrato nella Liquigas Liquigas che poi è diventata Cannondale e mi sembra rimasto un po' lì e ora lo vedo un brand molto legato per diritti la IF quando la IF fa la bici figa dico è figa da collezione è una bella forma la Lab 71 tra l'altro ho visto i prezzi altini anche quelli vogliamo aprire il capitolo prezzi vabbè io sono magari dopo a fine puntata ne parliamo se tu dici che costano un po' troppo cioè costano troppo però devono costare così Marci eh lo so secondo me sì devono costare così se vedi in tutti i settori stiamo parlando di una nicchia perché alla fine per il mondo per il mondo bici globale è una nicchia la strada di alto livello è vero che si parla di alto prezzo per bici di top di gamma quindi è vero che come dici tu è una nicchia quindi nella nicchia se vuoi una sorta di gioiello perché se le vedi sono tutte a loro modo un gioiello è anche giusto che c'è anche giusto non è mai giusto pagare tanto però è vero che c'è ricerca sviluppo marketing è un discorso siccome è che non c'entra molto con la puntata bike cioè andiamo oltre qua forse è più da giornalisti però è solo per dire tu mi hai detto che costava tanto però effettivamente le bici costano tanto ma come dici tu sono soldi sempre ben spesi vai ma appunto io dico come c'è chi li spende in moto in macchine perché non devo spenderle per un mezzo che mi fa stare bene perché è questo alla fine è vero è vero io la Canon della vedo molto legata al mondo IF e quando fanno le limite dico che figata e come ti ho detto quando vedo la collezione non la prenderei sì sì Marci c'è un mezzo in costruzione probabilmente Scott Foil non l'abbiamo parlato ancora allora la Scott è una delle poche che ha ancora distinzione addict foil quindi diciamo salita endurance sì endurance gara diciamo e foil aerodinamica quella che usano per la maggior parte delle volte il team a me piacciono piacciono tantissimo un po' come mettiamo parliamo anche di Giant che è vero che non ha la bici tipo la foil esatto però comunque sono quei due brand che comunque hanno questa bici da salita la Giant ha la Propel mi pare la Propel che è sempre stata quella Aero e la TCR Advanced che storicamente quel telaio che è 15 anni che è uguale è pazzesco io ho iniziato con la TCR nel 2008 2009 e il mio primo telaio in carbonio anzi il primo era mezzo carbonio mezzo luminio che non aveva questa forma però quello stampo lì è quasi pressoché simile è vero e non so se è l'abitudine o no ma quando pedalo su quel tipo di bici lì è sempre bello sì è vero è una bici secondo me molto bella però posso dirti adesso hai cavi fuori il TCR sì la Propel forse la Propel è integrato infatti e mi dicevano che la Propel adesso praticamente ha il peso della TCR cioè sono riusciti a fare la nuova Propel con diciamo le caratteristiche ma è un po' come dicevamo prima la sovrapporsi di queste due categorie c'è chi ancora produce quella salita aero ma si stanno un attimino e questo secondo me è quello che sta facendo Giant con la Propel nel senso sta cercando di probabilmente abbassare il peso converge tutto in una bici esatto è inutile averne due cioè inutile può essere utile però è sempre utile avere più di una bici certo non ce n'è mai abbastanza però la cosa è che secondo me per le case è anche forse più semplice fare una una bici totale chiamiamola così sì è che Giant anche lì se uno è tecnico tipo come possiamo essere diciamo malati noi nel senso di andare a vedere il peso certi tipi di caratteristiche ci sta non so quanto appeal abbia dal punto di vista emozionale sì anche perché il team i due cioè Scott e Giant siccome hanno la sfortuna di avere due team che comunque non hanno il personaggio che ti che ti dà un po' come VDP per Canyon per esempio deve proprio prenderti quel tipo di sì sono bici comunque che sono assolutamente competitive da quel punto di vista sono veramente bici assurde ma siccome ce ne sono tante competitive che non sono nel motore siccome la puntata si chiama Bike Porn io ti dico che secondo me la foil sì la foil gasa sì l'ho vista su Vincenzo Nibali tra l'altro ci sta anche se quei colori un po' panno quel grigio il grigio sulle bici grigio panno però sì quello nero che va in perlato blu Q30 come si chiama Q365 sì invece la colorazione DSM è molto più bella ecco esatto quella di Daino sì esatto ti cambia le bici è comunque una bici veloce quella lì esatto però sono rimasto stupito perché l'anno scorso quando l'hanno lanciata Bardet faceva le salite con quella bici poi dopo non so se era questione di marketing però nelle tappe in salita usava quella bici con le ruote basso profilo ecco anche lì discorso un telaio così con delle ruote sotto il profilo sotto i 50 perde tutta la ma ultimamente comunque le ruote basse le usano veramente in pochi no ragazzi quando faremo la puntata ruote banneremo le ruote sotto i 40 mm no ma vabbè a parte che i pro non le usano perché proprio non le piegano cioè non c'è niente da fare quando aprono avete visto le aperte che hanno fatto la vuelta cioè con una ruota 35 così 30 la pieghi in due non basta nemmeno legare i i raggi come si faceva no cioè lì proprio le apri quindi è ovvio che comunque sì non abbiamo parlando di estetica dobbiamo considerare il fatto sempre quando col telaio la ruota ti cambia però qui si parla di telai parliamo solo di telai perché sennò si deve partire anche con le ruote però per dirti se fai un paragone foil con le ruote basso profilo no alto e l'alto profilo invece con il nago se le fai basso e alto ti sta bene con entrambe lì è proprio il discorso come con le ragazze quando hanno il tacco o c'hanno le ballerine cioè ragazzi no quando sono messi da festo quando invece cioè lì è proprio cambia tutto cambia la ruota profilo alto è assurda cioè però vabbè lì parlando di salita c'è un altro brand che fa bici da salita e bici aero Factor perché ha fatto un nuovo modello Factor è porno molto bella nella versione anche salita ma quella precedente siccome è questa qua nuova che hanno fatto a me non piace con QRG sella stile jant integrato sì ah quello tra l'altro dà un fastidio dalle canarie che devi segare devi segarla per riuscire a mettere nella valigia ad esempio sì parliamo di questa cosa perché a giant tu c'hai quel reggisella integrato che una volta che tagli eh lì poi se vuoi venderla per dirti a me ogni tanto piace cambiare l'altezza sella in base a quanti chili ho se dieci in più dieci in meno è una soluzione un po' sì ce la dovrebbero spiegare è un po' troppo statica come soluzione così come vabbè poi parleremo anche dei manubri però l'integrazione ogni tanto ti ma la factora è inglese no? la factora è inglese se non sbaglio c'è Chris Froome come socio investitore quindi c'è la c'è la guida a destra c'è la guida a destra però questa io ti vedevo ti potevo vedere su una bici di questo genere sulla O2 si chiama può essere potrebbe essere una bici anche se io al momento tra l'altro la vendo se volete metterò le foto su Instagram una factor ostronvam taglia 52 bella bellissima molto bella qualche problemino ogni tanto col movimento centrale dovuto siccome al ceramic speed poi dopo io mi do delle secche ogni tanto che è dovuto anche al mio peso un bel telaio perché è un compromesso tra la Venge ho trovato un compromesso tra la Venge e una un po' più da salita è una bella bici è una bella bici anche i pro infatti usano sempre nella maggior parte dei casi usano questo tipo di bici anche visto Montreal quel tipo di gare che hanno dislivello ma prediligono una bici un po' più nuca un po' più reattiva mi piace molto il carro posteriore di questa bici la forcella la zona rigisella così così però nel complesso una bella bici quella di Gino bianca molto bella molto bella splendida porno anzi forse con la colorazione la colorazione Gino potrebbe essere la colorazione 2023 esatto madonna spieghiamola è bianca con la scritta factor iridescente tipo no la fatta che cambia che cambia al sole bellissima veramente bella e se ti dico invece posso dirti io sto guardando la tua cartella di foto perché Marci ha fatto una cartella con le foto delle bici perché ho studiato fammi andare un po' l'abbiamo già criticata ma il carro posteriore cioè l'integrazione del carro posteriore sul tubo sul tubo orizzontale di Lapierre di Lapierre no no zero 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 che tra l'altro tu parlavi di Pinarello la nuova mamma X ha un fatto tipo sembra un non so un'impalcatura un'impalcatura un appendino è come quando si stanno apprendo due il telai se si sta apprendo e tu ci metti lo scotch per tenere la X per tenerlo ma perché secondo me ce lo devono spiegare anche quello magari la grande efficienza allora la Lapierre nel complesso non è neanche male non è brutta non è brutta però ha quella particolarità lì che stona un attimino andrei fuori di testa un mattino nell'alzarmi al mattino a vedere quel foro lì in mezzo non ce la farei mai Marci però io non riuscirei mai ad alzarmi ad essere contento con una De Rosa le ho viste un po' allora io l'ho usata nel 2009 addirittura 2009-2010 non ce la faccio una King mi piaceva molto non ce la faccio adesso li vedo un po' vecchiotti hanno buttato fuori anche qui il nuovo modello super light super light pesa in misura mi pare disco sì 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 ok l'hanno fatta proprio anche l'hanno portata lì in a Misano bella la colorazione perché ha tutta la parte posteriore carro e metà del tubo verticale diciamo quello sella il proseguo del tubo sella in carbonia vista però non lo so non lo so non mi non mi gasa no non è proprio non è un brand che ti viene che ti risalta non lo so anche loro nel world tour tu vedi le squadre col de rosa no avevano tipo la non era world tour era probabilmente squadra con Tint adesso non mi ricordo professional non non direi è un no direi anche io direi anche io no non lo so perché hanno questa questa polvere addosso come avessero la polvere addosso sai come vai dalla nonna che c'è il mobile che togli il centrino però basta poco perché comunque tanti brand italiani fino a 3-4 anni faranno così e poi hanno fatto un po' il cambio ma ci vuole però a livello estetico ci vuole anche poco secondo me non ci vuole così tanto a livello estetico dargli una bella forma al telaio non basta l'estetica cattiva moderna uno dei più grandi produttori di telai Merida che produce tantissimi altri brand è Merida ah un telaio bello ma la colorazione cioè quando vai sul sito di Merida vorrei vorrei lanciare il computer contro il muro sì perché la colorazione team è bellissima se la guardi intesa come come Bahrain ma non la comprerei mai loro vendono proprio il telaio che ha scritto Bahrain Merida sì sì è la colorazione team non è male però ma il telaio siccome è un mistro sembra un po' naostro anche guarda che anche loro fanno la doppia bici cioè bici a salita l'altra non so dire che quale sia però dovrebbe forse esserci ma comunque a me piacciono le Merida no siccome è visivamente è una bella bici non ne vedo in giro ne vedo molto poche secondo me il problema di tante aziende è quando dai una possibilità di colorazioni molto stretta e un po' raffazzonata diciamo devi dare l'opzione nera sempre l'opzione bianca siccome va sempre data sì e poi delle colorazioni adesso più che graficate vanno tanto le colorazioni sono tanto belle le colorazioni magari come come fa Willier per dirti se devi spendere quei soldi lì o Canyon quella violacea del bandito sfumata sì sì secondo me li spendi e vuoi un tipo di colorazione del genere lì sembrano proprio te l'hai sì quando vedo che ci sono tante grafica quando vedo che è colorato con le grafiche a me non piace non piace sì 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 però Marci volevo parlarti di Cipollini che all'Italia Bike Festival ha messo in esposizione davanti praticamente all'ingresso del loro stand una bici rim con una pesa a me è sembrato di tornare indietro di 15 anni sinceramente eh ma lui l'ha proprio dichiarato ha fatto un'intervista dove proprio diceva che a suo parere i dischi non hanno questa importanza e anzi addittandoli di aver creato e di creare problemi in gruppo soprattutto in gara perché dice che il disco frena troppo forse non so era un video dell'anno scorso no 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 era recente l'ha fatto su Amisano ah ok e probabilmente è per quello che ha messo su comunque anche la bici rim e lui è proprio sempre stato non favorevole almeno l'ha sempre dichiarato non favorevole dicendo sempre una mia considerazione però non so guarda quel tema lì è un tema che non mi non mi tocca nel senso che comunque io ho provato i dischi e hanno notevoli notevoli vantaggi sotto tutti i punti di vista se piove se in discesa poi non si però le forze anche che entrano in gioco sono diverse se come azienda ti presenti e metti lì un telaio rim in esposizione dicendo il più leggero di tutti secondo me non stai pedalando con la gente a domenica cioè non sei nei gruppi ciclistici e non sai di cosa parla la gente però poi Cipollini si è presentato in griglia ovvio con la bici aero che quell'aero non mi piace come forme ha un po' delle forme strane sono un po' particolari poi Cipo a me esteticamente mi piace molto in bicicletta anche adesso che ha la sua età io comunque l'ho visto tiratissimo però il complesso bici Cipollini su di lui forse fanno la bici su Cipollini è questo il problema Cipollini è porno Marci ma io se dovessi provare una bici particolare l'ho trovata sul web è un brand britannico che sponsorizzava una squadra britannica dove correva l'ingegnere Bigam che è quello che ha fatto il record dell'ora prima di Ganna e correvano con le Ribble Ribble ha rilasciato un modello l'anno scorso che si chiama io lo chiamerei ignoranza il modello perché se vai a vedere il manubrio assurdo il manubrio è largo credo 20 cm cioè largo nel senso non in larghezza dove si tengono le mani dove si tengono le mani non puoi stringere il manubrio perché è troppo largo è proprio una forma imponente grossa così e secondo me appena prendi il 2-3% in salita ti cappotta indietro però è un brand interessante anche qua costi più o meno elevati però prendere una bici di questo tipo è veramente impegnativo questo è il premio bici ignoranza secondo me non dico che uno debba pensare di prendere una bici per rivenderla però comunque c'è sempre anche quella cosa lì che poi ti rimanga una bici del genere è difficile poi da dar via invece Ridley Ridley sono belle le Ridley loro la Helium è quella un po' più fina che hanno sempre tenuto come squadra sì è una di quelle bici che non comprerei ma non ti dico neanche che è brutta secondo me è normale la Noah se non sbaglio quella Aero ci può stare secondo me non è una brutta bici ha delle forme particolari ha delle forme che devono piacerti però anche lì ci sono tantissimi brand che fanno bici interessanti con delle forme anche carine lì proprio per appassionarti a un brand per dirti se uno è invasato gli piace Campenerts si prende la Ridley cioè quella colorazione lì comunque del team era bellissima no non abbiamo parlato di BNC assurda BNC è sempre bella sempre bella c'è quel tipo di telaio che non cambiano adesso no scusami hanno al Tour de France hanno corso con un telaio con scritto Create Speed proprio sul tubo oblicuo ed è un prototipo lo usava Ben O'Connor anche Greg l'ha usato ed è un prototipo che uscirà credo penso quest'anno l'anno prossimo sempre super bici anche qui ho sentito amatori dire che è molto molto rigida cioè molto almeno le bici si siccome è sono tutte rigide per dirti un pro mi ha detto che l'SL7 sull'SL7 dovevano sgonfiare un pelino di più la ruota posteriore perché per loro con tutte quelle ore era tanto invasiva quindi anche lì noi diciamo i pro vogliono le bici rigide vogliono le bici toste però dopo se ci pensi esatto fanno 30 ore a settimana e se un pro ti dice che deve abbassare la pressione delle gomme per essere un pelo più comodo fa un po' riflettere e parleremo di selle anche in una prossima selle difficile senti ma invece siccome siamo adesso abbiamo fatto un'ora e quasi dieci se tu hai dei brand a dirmi oppure io ti dico ho qua una sorta di lista volevo sicuramente chiederti il tuo podio personale le prime tre che tu potresti essere molto dura lo so è dura però è un gioco e poi io volevo invece dirti che sono rimasto favorevolmente colpito a Misano e la reputavo un po' la regina di Misano tra virgolette per uscire un po' dagli soliti schemi parlare quindi di brand di grosse case di biciclette dallo stand Sarto sono andato a vedere lo stand Sarto avevano questa bicicletta l'asola telaio su misura ovviamente ti fanno come dice il nome ti fanno la bici sulle tue misure ti prendono le misure e te la costruiscono ma aveva questa bicicletta veramente meravigliosa allora niente di particolare telaio classico nelle geometrie diciamo così hanno l'hanno fornita di tutte gli accessori migliori per quanto riguarda le ruote aveva le light wave aveva il te la personalizzano a piacimento carbon t per le per le guarniture THM per le 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 pedivelle e poi avevano però la cosa pazzesca che qui mi ricollego un po' a quello che era Specialized dall'inizio che non abbiamo di cui non abbiamo parlato però Specialized l'SL8 a me ha fatto questo tubo diciamo la parte del tubo del piantone sterzo l'hanno fatto più largo un po' tipo pinarello per farci passare meglio i cavi ecco sono andato a vedere la Sarto hanno un tubo piantone classico tondo da quasi stretto quasi da vecchia bici in acciaio per farti capire pipa in acciaio e manubrio in carbonio sono riusciti a far passare i tubi lì io veramente gli ho chiesto mi sono fatto spiegare come hanno fatto vabbè hanno una forcella che praticamente all'interno ha la sezione a mezzaluna chiamiamola così un po' come fa la Deda la Deda crea questo tipo di forcella dove all'interno può far passare i cavi a questa sezione a mezzo cerchio però veramente hanno fatto un lavoro pazzesco io gli ho detto ma i vostri meccanici vi amano gli ho detto alla fine perché sono riusciti a renderla pulita con delle forme veramente classiche però di una linea e di una almeno a me è piaciuta molto è una bici classica ovviamente non è una bici aero non è una bici però mi è piaciuta tantissimo e poi ha questa particolarità di avere all'interno delle fibre del carbonio dei filamenti di rame che la rendono più flessibile chiamiamola così più elastica e quindi meno rigida e più facile da guidare nel senso non da guidare ma da sopportare lunghe distanze magari e tutta questa la parte sopra del tubo orizzontale era lasciata a vista solo con la lucidatura e si vedevano questi particolari di queste fibre guarda veramente un gioiello ovvio marchio che ti fa le bici su misura non farà grandi numeri costo assurdo però se qualcuno può avere 4, 5, 6 bici in garage questa secondo me è veramente bella penso sia una bici da post pensione no non ti vorrei non ti vorrei vedere su una bici del genere perché è molto bella da vedere particolare ricercata ma non è una bici corsaiola secondo me non è una bici da watt non è una bici da velocità è una bici un po' è una bici classica è vero io non sono per le bici classiche lo sarò quando sarò in pensione magari poi c'è il discorso anche titanio e tutte queste cose però se guardo il marsivano che vedo ora tu hai bisogno di una bici corsaiola quello ci sta ma assolutamente perché poi è nel mio DNA ma volevo diciamo portarla all'attenzione perché è una bici che mi ha impressionato mi ha impressionato proprio per come è costruita è fatta Marci posso dire una cosa che Nairo scusami Nairo Quintana Rigoberto Uran idolo grandissimo esteta della bici super simpatico ma ha fatto un brand di bici che è incomprabile si è vero Uranium Bikes già col nome Uranium bruttissime no te lo dico perché sto leggendo quelle ho fatto una lista boiate con tre brand Uranium Bikes Quintanaro che non so che bici siano penso siamo più sul triathlon l'ho visto online e le Sava tu non sei mai andato da sport specialist vendono le Sava Bikes che non ho idea ma sono bici da corsa sì bici da corsa non ho idea molto entry level non c'entrano molto con quello di cui stiamo parlando però volevo fartelo saltare all'occhio invece le Aurum non sono male le Aurum non sono male hanno perso un po' di siccome sono entrate alla grande nel mondo bici sono rimaste un po' lì fermi però io vedo i ragazzi sul lago maggiore sono belle sì è bella esteticamente mi piace molto sono molto belle molto belle e volevo chiederti se tu avevi dato occhio avevi dato un'occhiata alla bici che ha fatto Envy perché è una delle bici top 3 sogni che vorrei provare sì ma non non ho idea di ti apro tu mi chiedevi la mia top 3 questa è una delle top 3 Envy Custom Road si chiama e tra l'altro il reggiselle ha integrato anche questa stile giant non so come vada però ho visto delle colorazioni e delle fa ma anche la fotograficamente bellissima poi dopo secondo me è un po' sulla scia di Lightwave anche Lightwave ha fatto il suo telaio ti ricordi cioè loro praticamente lavorando il carbonio hanno deciso poi di tirar fuori un telaio quel Lightwave è stato un fallimento credo che non ne vedremo mai in strada di queste bici in Italia mai in particolare però no le ruote parleremo poi di ruote perché parleremo di ruote vedendo così abbiamo parlato più o meno di tutti i brand e dimmi la tua top 3 sì allora top 3 ragazzi Canyon Ultimate l'ho detto già facciamo così top 3 fai top 3 delle bici che ti piacciono e top 3 no top 3 sogni è la stessa cosa sì sì è tuttora aggroppato comunque se dovessi cambiare la bici domani ok mi piacerebbe o salire su una Canyon come vi ho detto una Hillier assolutamente la Zero mi piace tantissimo e una Colnago secondo me Colnago rimane comunque un fascino assurdo che sia la 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 V4 RS o la C68 bici pazzesca per me sono queste qua il mio podio questo io sono in grande difficoltà Marci perché ho cambiato quattro bici negli ultimi due anni ti potrei dire la Venge ma non te la dico perché perché alla fine se faccio il calcolo se guardo il perché la motivazione per cui l'ho venduta è perché era troppo impegnativa cioè perché nei giri di cinque ore se fosse una bici da tenere lì solo per la gara però dovevi tenerla lì però dovevi tenerla lì questo è il motivo per cui bisogna avere più di una bicicletta questo bisogna avere quindi facciamo così allora terrei una Venge da gara terrei una Factor la terrei Factor barra foil e poi vorrei provare che è una bici che è un tipo di bici che non ho mai provato io perché ho sempre avuto più o meno bici aero vorrei provare una V4 RS una con Nago perché secondo me è quella che ingloba un po' tutto quello che c'è quello che serve vedendo anche un po' le gare pro non vorrei provare la SL7 scusami la SL8 perché ce l'hanno tutti perché non mi dà questa cosa di unicità secondo me cosa che trovo magari in una Factor o trovo in una con Nago trovi in una Willier qui trovi siccome unicità nel brand Specialized secondo me no poi dopo c'è la Remco se mi dici ti do la bici di Remco vabbè ok grazie dammi quella è molto difficile scegliere la bici ma abbiamo confuso forse le idee ti do questa questo retroscena del Misano Bike Festival eravamo lo stand The Wonderful Socks dove sono stato lì tre giorni a cuocere sotto il sole e di fronte avevamo la beta no casa di di attrezzi pazzesca io amo i ferramenta cioè in terreno e ferramenta comprerei tutto e avevano in questo stand montato ovviamente i loro tavoli da lavoro i loro bancali e tutto sono entrato a curiosare la signora che era dentro mi ha fatto due domande per sapere se mi interessava qualcosa gli ho detto senta guardi avevano un bancale ad angolo ok con tutti i mobiletti con le con le le chiavi appese i cassettini dove tirai fuori erano tutto ordinato gli ho detto senta si può montare al posto della cucina per dirvi ragazzi che di bici non ce ne va abbastanza e che io veramente rinuncerei alla cucina per mettere su un'officina del genere è veramente fantastica non so quanto mia moglie possa essere d'accordo quante bici hai tu al momento adesso allora ne ho allora sono le tre tarmac scusa no la tarmac rim la tarmac sl6 la etos la marsivelo la bottecchia storica e la e cos'è che c'ho di altro non mi ricordo comunque si queste e non bastano mai 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 eh ma ragazzi pronti alle novità io ve lo dico pronti alle novità e concluderei con un pensiero non concluderemo mai quando iniziamo questo pensiero cosa vorresti dai brand per il futuro cioè come vedi la bici del futuro tu io vorrei che non facessero troppi voli per andare cioè che non pensassero di dover cambiare la bici perché deve vendere di più tornassero a pensare a va bene la la tecnologia va bene lo studio va bene l'aerodinamica assolutamente però deve essere assolutamente di pari passo con lo stile cioè deve avere uno stile la bici è la bicicletta da sempre cioè è inutile che mi fai una bici che che è ad onda o che è spigolosa la bici deve deve essere armonica cioè deve piacere anche dal punto di vista estetico è questo no concordo cioè siccome l'estetica è la base di come dovrebbe uscire la bici secondo me forse guarda ti dico un'assurdità devono fare forse un passo indietro invece di in avanti no quello non concordo perché comunque c'è la via di mezzo perché se fanno i passi indietro dopo fanno come la ethos che hanno preso i pezzi del cancello della Moplast e li hanno messi insieme no era un po' cattiva questa ma è come la penso io però per dire che non è inutile cercare non andare oltre come la Bianchi però quello quello che vorrei io invece ed è più una questione di componenti forse ed è una questione che ritornando al Brand Canyon non mi piace quando tu vai sul Brand Canyon ti vendono la taglia 51 con quel manubrio lì e quella lunghezza di manubrio lì e tu non puoi cambiarla devi chiedere aspetta perché adesso la Canyon fa il manubrio quello avvitato lo sai quello che si riduce si allarga sì l'ho visto e lo vendono così nel senso tu puoi farlo 46 puoi farlo 38 adesso non so ecco io stavo dicendo vorrei che le aziende fossero più modulabili nella scena questa la Canyon l'ha fatto questo non lo sapevo l'avevo intravisto ma non pensavo adesso non so quanto quanto sia affidabile no 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 è affidabile assolutamente ma è quello che usano i pro no 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 eh vedi già no 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 non penso cioè io vorrei che le cose che cioè perché noi vogliamo le cose che hanno i pro sì quello sì questo è indiscutibile però proprio per loro Canyon proprio per il fatto che comunque le compri su internet e c'è questo problema proprio che magari vuoi un manubrio più largo un manubrio più stretto hanno ovviato con questa cosa qui ovviamente non per quanto riguarda la lunghezza della pipa vabbè però quella potrebbe essere una soluzione bella brutta boh devi avvitare due viti sotto e devi avere il manubrio aperto però ci sta è che come hai detto tu ci sono pezzi che hanno i pro e che noi vorremmo avere comunque studi che fanno per loro che sarebbe bello che riportassero poi sul mercato il mercato e sarebbe bello che più o meno tutte le aziende dessero un'idea dello sviluppo di una bici come è stato e su cosa si è basato poi dopo alla fine si riduce tutto in è più leggero è più veloce come fa Specialized che secondo me non è neanche esplicativo e non è così bello e come abbiamo detto ogni anno tirano giù secondi e chili arriveranno con la bici da due chili più veloci di sette minuti però questo è il marketing che funziona così sì quello che vorrei vedere nel futuro no io vorrei che l'aerodinamica non si fermasse mai anzi siccome ci sono altri fattori che bisogna considerare ancora e per assurdo ti dico che vorrei che cambiassero proprio le geometrie in funzione di un tipo di bici per dirti da fuga e da pianura perché secondo me le geometrie attuali delle biciclette non puoi compensare con la pipa e la larghezza del manubrio vedendola da qua a vent'anni siccome non si potrà più compensare con la lunghezza della pipa e la larghezza del manubrio l'avanzamento della sella e l'inclinazione della sella siccome dovrà esserci anche una spinta dei telaisti in questa direzione è molto un fattore di performance estremo quindi per i professionisti perché guardando se tu guardi anche la foto di Hasbjorn di ieri che è postato in una posizione super aero secondo me quelle posizioni lì sto fantasticando però potrebbero essere agevolate appunto dalla costruzione di un telaio perché ti dico questo perché se tu vuoi essere un po' più aero e quindi hai bisogno di buttare un po' più avanti la sella essere un po' più lungo di pipa avere il manubrio più stretto dopo perdi guidabilità e secondo me bisognerà cercare di arrivare a un compromesso ti dirò è molto futuristica giusto per chiudere che ho sentito che l'UCI sta pensando di bandire le leve questo è un tema scottante quello è scottante anzi la mettiamo come news finale che metteremo nelle descrizioni di questo podcast parliamone Marci perché abbiamo fatto solo un'ora e venticinque di podcast però comunque si vorrebbero limitare la distanza tra una leva e l'altra perché dicono che è insicuro ma molto male molto male attaccheremo l'UCI ancora una volta esatto grazie Marci comunque si potrebbe parlare ancora tre ore di telaio ora non so quanto la gente possa siccome c'è su Spotify una bella casella interazione scriveteci gli argomenti che vorreste che trattassimo il vostro modello preferito scriveteci se non vi abbiamo detto se abbiamo detto castronerie costruttori se vi abbiamo criticati scriveteci non dall'avvocato ma no parere personale giusto io ho il diritto di dare il mio parere se volete farci cambiare parere su qualche bici mandateci telai così li proviamo no no perché dopo ci crea solo confusione io le mie idee tanti telai non vorrei neanche provarli beh dai però sapere come va magari ti stupisce cioè tu mi immagini una bianchi che mi dice ti faccio provare la oltre ma no non ci scendi più no non ci salgo va bene grazie Marci grazie a voi ciao ragazzi